buongiorno come promesso eccoci oggi pomeriggio ad analizzare in modo decisamente rapido perché parliamo di una piattaforma estremamente semplice ma questa sua semplicità non toglie nulla all'efficacia presentiamo la piattaforma world world che sicuramente molti di voi già conoscono bene questa piattaforma ci permette di costruire attività personalizzate per la propria classe e in queste attività possiamo creare quiz giochi di parole abbinamento e molto altro ancora quindi diciamo una piattaforma che ci permette di portare i nostri ragazzi a compiere attività ludiche e quindi coinvolgenti motivante anche proprio per valutare gli apprendimenti ora io ho aperto questa pagina nella quale ho fatto una sottoscrizione gratuita incomincierei a presentare questa per poi passare velocemente anche a vedere la parte con la sottoscrizione invece a pagamento che ci permette di avere ovviamente più possibilità ora la sottoscrizione gratuita ci permette di fare alcune cose andiamo a vedere ecco io schiaccio qui sull'upgrade in modo da farvi vedere di cosa stiamo parlando allora la sottoscrizione basic che quella gratuita permette di scegliere tra 18 attività interattive nessuna è stampabile ma le risorse che si possono creare sono cinque questo cioè vuol dire che nel momento in cui ho creato cinque risorse ho finito l'utilizzo chiaramente se ne elimino una ne posso fare un'altra e così via no quindi il massimo che si può mantenere sono cinque risorse la sottoscrizione standard che invece di 3 euro al mese permette una scelta tra 18 attività interattive come per l'iscrizione gratuita permette di stamparne 16 e soprattutto permette di creare un numero di risorse illimitato infine la sottoscrizione pro che è 4 euro e 50 al mese permette di fare di scegliere tra 33 attività interattive stampabili 16 illimitato il numero delle risorse che si possono creare quindi io direi entriamo nella piattaforma cliccando sul pulsante in alto azzurro crea un'attività per connettersi fare le iscrizioni gratuita è semplicissimo basta andare sul sito di world world fare accedi e chiederà un accesso anche con l'account google quindi io creo la mia prima attività in modo da vedere quali sono queste attività abbiamo i quiz una serie di domande risposta multipla gli abbinamenti quindi trascina ogni parola chiave rilascia vicino la sua definizione organizza per bruppo immagini etichette ruote la fortuna memory apri la scatola parola mancante carte random eccetera insomma qui ci si sbizzarrisce questa è la parte delle attività interattive per la sottoscrizione basic invece quelle più chiare sono quelle mancanti che troviamo invece solo come vedete nei modelli pro quindi necessario un upgrade ecco ad esempio incominciamo a vedere alcune di queste attività una cosa molto interessante io adesso la userò proprio per farvi vedere un risultato già presente è la community la community è il luogo dove tutti coloro che utilizzano questa piattaforma possono inserire i lavori fatti ad esempio vedo qui prima proprio così appena aperto vedo che c'è un'attività creata da un nostro collega un quiz sugli articoli indeterminativi e ora clicco su questo così giusto per far vedere a largo a schermo intero e faccio avvia ecco come vedete il nostro collega ha scelto come contesto dove svolgere questa attività sugli articoli indeterminativi questo sfondo misterioso un po pauroso è chiaro che sono piccoli accorgimenti no per sempre creare quel quell'interesse quella quella parte ludica del lavoro che permette di di stimolare i ragazzi allora come vedete abbiamo la parola albero con accanto un'immagine quindi si possono come vedete inserire anche le immagini e poi le quattro possibilità dell'articolo determinativo un 1 1 apostrofo 1 ecco ovviamente se io scelgo l'opzione errata ecco vedete il sistema mi risponde il ratto e mi dice qual era la risposta giusta la porta una porta vedete subito mi ha dato la risposta giusta la scuola una scuola e avanti così sono 23 come vedete no un armadio se sbaglio come prima ecco molto importante in questo gioco è anche la scelta delle immagini perché permettono effettivamente di rendere questa attività molto interessante ecco quindi io ora esco da questa attività quindi faccio esc perché voglio farvi entrare nella costruzione vi ho fatto vedere un piccolo esempio quindi molto interessante la sezione community avete visto dove si possono trovare tanti lavori già fatti io posso ad esempio nella parte nella barra di ricerca posso digitare ciò che sto cercando ad esempio non so scrivo regioni vediamo cosa mi dice ecco vedete mi escono tutta una serie di attività già pronte e questo è molto importante perché ancora una volta parliamoci chiaro carissimi colleghi il fatto di condividere i nostri lavori permette di avere sempre di più un archivio di possibilità da utilizzare a scuola e quindi ciò che ci in fondo in questa fase del nostro lavoro in cui abbiamo a disposizione tante piattaforme è importante condividere i lavori perché in questo modo non solo noi contribuiamo ad avere materiale che altri colleghi possono usare ma altri colleghi creeranno altro materiale e in questo caso non bisognerà quindi non bisognerà più partire sempre da zero no dice ma quanto ci impiego a fare certo ma se tu incomincia a fare qualcosina lo condividi poi vedrai che molti altri colleghi hanno già prodotto delle cose quindi potrai prenderle quindi entrare in questi ambiti di lavoro è importante perché anche ci aiuta a capire l'importanza di condividere il nostro lavoro senza essere troppo gelosi di quello che facciamo quindi ad esempio vedete no io ho scritto regione guardate quante quante cose troviamo di tanti tipi diversi tipologie diversi no ecco benissimo adesso faccio una cosa scrivo atomo ecco vedete pure con l'atomo guardate quante cose che ci sono voglio mettere pianeti ultima cosa poi andiamo avanti giusto per farvi capire ecco guardate qua cioè capite anche voi che stiamo parlando di un di un'applicazione nella quale ci sono veramente tantissime tantissime già tantissimi lavori già pronti bene ora io voglio invece costruire una mia attività quindi clicco sulla sezione le mie attività e vedete ovviamente è vuota perché l'ho appena creata questo account l'ho appena creato per questa questo incontro di oggi pomeriggio ora c'è vedete il pulsante azzurro crea un'attività benissimo ora clicco su questo pulsante il sistema mi propone le varie possibilità quindi io posso decidere quale di queste voglio usare cioè colpisci la talpa che è un gioco molto divertente l'aeroplano gira le tessere eccetera eccetera qui il lavoro è così semplice che guardate io adesso proprio pochi minuti giusto per farvi vedere alcune cose ma poi ma poi vi invito proprio a utilizzarlo perché di comprensione immediata ad esempio io ora proverò a fare il gioco degli abbinamenti il sistema sta elaborando per caricare mi chiede un titolo io voglio fare abbinamenti con la natura ora parola chiave definizione ad esempio io voglio la parola chiave è sole adesso faccio cose banali è scalda la terra aggiungo un nuovo elemento mare vi abitano i pesci e avanti poi non so montagna ci sono le stelle alpine sto scrivendo delle sciocchezze poi ancora bosco qui troviamo i funghi ecco attenzione e basta così poi avanti rimanisco ho scritto delle sciocchezze ora notate che accanto alla parola chiave c'è il simbolo dell'immagine vedete è anche vicino a definizione ora se io clicco sull'immagine ecco qua siccome c'è scritto sole vedete io posso scegliere le immagini e posso scegliere tra piccolo formato piccolo formato medio formato grande ovviamente il formato grande quello con qualità più alta io vi consiglio assolutamente di usare sempre il formato grande perché la qualità dell'immagine è importantissima dopodiché scegliete qual è l'immagine che vi piace di più io ne prendo una a caso prendo questa e me la posiziona scalda la terra il sistema cosa mi guardate vedete qui addirittura c'è il sole che scalda la terra no? però dico beh a me non interessa proprio questo tipo di immagini non mi interessa nessun problema tolgo scalda lascio terra metto grande ecco qua e prendo un'immagine della nostra bellissima terra mare ancora clicco sempre è su grande e scelgo un'immagine del mare vi abitano i pesci il sistema sta elaborando evidentemente non trova perché la frase era un po troppo complessa allora io scrivo pesci seleziono grande e vado a scegliere l'immagine che preferisco dei pesci ok e così via prendo questa che mi piace e così via bene finiamo così in modo da avere da avere poi tutte le immagini montagne adesso vado veramente veloce per le stelle alpine allora scrivo stelle alpine eccole qua guardate che meraviglia notate l'archivio di immagini veramente notevole no? e la velocità con la quale possiamo inserire le immagini dei nostri bosco e anche qui subito viene fuori l'immagine attenzione non ho fatto rimuovo perché non ho scelto l'immagine grande invece ribadisco importantissima bosco prendo questa immagine qui troviamo i funghi se non viene fuori scrivo in modo più preciso funghi eccoli qua i nostri meravigliosi porcini benissimo prendiamo questa immagine ok facciamo che come se avessimo finito va bene quindi clicco sul pulsante fine il sistema elabora il lavoro che ho appena preparato e faccio via oh qui troviamo i funghi ci sono le stelle alpine allargo un pochino così si vede meglio vi qui ho scritto sbagliato vi abitano i pesci scalda la terra allora io a questo punto devo prendere vedete mare, bosco, sole, montagna e collegarli alla definizione corretta qui troviamo i funghi bosco ci sono le stelle alpine sbaglio faccio mare vi abitano scalda la terra, sole vi abitano i pesci, montagna sono veramente un genio perfetto ho finito di elaborare il mio gioco invio le risposte ed ecco che parte la correzione del lavoro che ho fatto benissimo ora se l'impostazione grafica non mi piace posso scegliere altre impostazioni avete visto prima no che il nostro collega aveva scelto quella un po' spettrale ecco infatti si chiama proprio così spettrale no se io clicco su spettrale e faccio avvia eccola qui bellissima 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 qui troviamo i funghi nel bosco e così via ok insomma per non farla lunga voi potete qui in basso selezionare la tipologia che vi interessa ad esempio gioco televisivo ultima che vi faccio vedere ecco il gioco televisivo ha questo schermo questa tipologia di gioco cioè quello delle dell'abbinamento forse non è il massimo però come vedete anche qui io posso fare vado a caso no prendo a caso invia risposte il principio poi vedete è lo stesso no che c'è la c'è la correzione e ecco vedete la parte grafica del gioco televisivo e così via finché appunto trovate quella che più vi piace va bene ce ne sono molte ora abbiamo finito di fare il nostro lavoro vogliamo condividere il lavoro che abbiamo fatto come facciamo vedete qui sotto al lavoro che abbiamo impostato c'è il pulsante condividi pubblica ecco qua guardate risorsa pubblicata fatto quindi qui abbiamo un link questa risorsa è stata pubblicata no io posso decidere di inserirla direttamente ad esempio in classroom su facebook e su altri oppure posso creando un codice inserirla poi direttamente se ho un sito o un blog o qualcosa del genere o comunque posso copiare l'indirizzo vedete http faccio copia a questo punto apro una scheda sul mio browser vado su incolla ed ecco che mi porta alla al mio gioco quello che adesso per chi è interessato no per chi è interessato quello che ci serve è semplicemente quello di creare dei giochi dei questionari delle valutazioni di valutazione eccetera eccetera quello che vogliamo noi insomma con questa applicazione per anche anche in questo caso creare delle attività che favoriscano la motivazione dei nostri ragazzi e inseriscano dentro la nostra attività didattica una componente ludica questa componente ludica è importante perché giocando si impara meglio non dobbiamo sottovalutare questa cosa non è detto che per imparare si debba semplicemente per seguire solo strade tradizionali si può imparare anche in altro modo e forse addirittura meglio e comunque nulla esclude l'altro parliamoci chiaro si può fare delle attività giocando si possono fare delle attività tradizionali cercare di diversificare le nostre proposte con World World abbiamo già finito perché avete visto anche voi che è estremamente semplice utilizzare questa piattaforma quindi basta mettersi lì e provarla però abbiamo introdotto il tema del gioco e quindi la volta prossima approfondiamo questo tema del gioco con l'applicazione CAUT che ci permette di fare delle verifiche in classe sotto forma di gioco nel quale i ragazzi vengono molto coinvolti e vi assicuro il risultato è estremamente interessante e sempre su questo tema della gamification la volta successiva al lavoro su CAUT guarderemo la piattaforma Geniali per scoprire le potenzialità che questa piattaforma ci offre per creare la gamification e con questo vi auguro una buona serata alla prossima arrivederci